Le probabilità che domenica prossima si giochi Gela Due Torri sono quasi inesistenti. La formazione valoritana infatti a seguito di una crisi societaria senza precedenti non si presenterà al campo. Vincenzo Presti è già caduto nelle ultime giornate di campionato. Arriveranno tre punti a tavolino, ma come sostiene il tecnico biancazzurro Pietro Infantino, la rinuncia della squadra messinese al campionato di Sledì è un vero e proprio pugno allo stomaco per l'intero movimento calcistico. Una sconfitta per il calcio siciliano. Credo che scompare una società che da 30 anni fa campionati. Dispiace in un campionato nazionale perché rappresentiamo la Sicilia in Italia. Dispiace non disputare una partita perché venivamo da una sorsa natalizia. Dopo una sorsa natalizia abbiamo giocato col Pomigliano e ci siamo rifermati altre due settimane. Credo che questo non fa bene neanche alla squadra. Noi stiamo cercando, stiamo facendo delle amichevole per mantenere questo ritmo gara perché poi prossima settimana abbiamo mercoledì a Sersale e domenica con il Gladiator e vogliamo arrivare pronti con la gamba e con la testa. Per il Gela si tratta del secondo stop consecutivo in tema di partite non giocate. È già saltata la gara di domenica scorsa a Sersale per le abbondanti nevicate. Adesso si profila all'orizzonte anche quella con il Due Torri. L'unico dato positivo, se vogliamo, è che in questi 15 giorni di assenza dal terreno di gioco siano stati recuperati gli infortunati. Abbiamo recuperato Bonaffini, già era al 50%, oggi al 100%, poi Gambuzzo ancora ha dei problemi. Abbiamo avuto l'infortunio di Alma alla spalla, è ricaduto nell'infortunio che ha avuto quest'estate. Si sa, quando si fa uno sport agonistico si sa che ci sono anche questi problemi. Però noi siamo convinti che abbiamo una rosa abbastanza numerosa per sopperire anche a certe mancanze. L'importante è essere pronti mentalmente e sapere che ogni palla, ogni minuto dobbiamo lottare per portare più in alto possibile il Gela Calcio. Con la sconfitta subita domenica scorsa dalla capolista Egia Virtus a Cavale Tirreni il campionato si è ufficialmente riaperto. Credo che la Cavese, come il Rende e la Leonzio, hanno qualcosina in più rispetto agli altri. Se la Cavese vince a Palma si mettono a pari punti e lì si fa veramente. La Cavese può dire di aver fatto un passo molto molto importante. Il Gela Punta, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, ai play-off. Noi siamo contenti di come si stanno comportando i ragazzi, come si applicano. Se manteniamo questa aggregazione, questo modo di fare, questa voglia di essere protagonisti, io credo che il Gela può dire la sua fino alla fine.